Con l'azienda Messori c'è un rapporto particolare, infatti credo che noi non dobbiamo vedere l'azienda Messori come un nostro sponsor ma come un nostro partner. Infatti bene o male questo un po' ci accomuna anche il modo di lavorare dell'azienda Messori che è un'azienda che sul territorio è molto importante e questo ci fa capire la volontà ancora da parte della nostra società di legarsi sempre di più con clienti, con partner locali. L'azienda Messori è un'azienda anche leader su tutto quello che è in Italia e non solo. Possiamo dire che oggi questo modo di pensare di lavorare dell'azienda Messori è un po' accomuna un pochettino anche la nostra società in quanto abbiamo vari ragazzi italiani per cui questo è un modo comune di poterla pensare un po' con lo stesso pensiero. In effetti vestirli non è semplice perché devi sempre immaginare che loro sono abituati a vestirsi in un certo modo per cui non li puoi vestire troppo classici con un semplice abito ma devi reinventare a partire sì dal classico che è un po' il cuore della nostra azienda ma reinventare quindi abbinare tessuti diversi, colori. Allora forse riesce ad entrare nella loro ottica e nel loro guardaroba. Abito due bottoni con Ticket Pocket che è quella taschina irregolare che c'è sulla destra. Abbiamo scelto uno spinato nero. Come spiegavo prima il nero credo che sia un colore che quest'anno serva perché è un colore molto intenso, molto forte e loro hanno bisogno di grinta. Ho mantenuto il gilet verde perché credo che sia ormai una cosa che li distingue rispetto agli altri e la cravatta nero verde ovviamente come è sempre presente. Abbiamo modificato il logo da ricamato e quest'anno abbiamo fatto un logo termoadesivato che riesce a spiegare molto meglio tutte le caratteristiche del design del logo. Un dettaglio da intenditori sulla nuova divisa? È un dettaglio che da fuori non si vede ma lo vede solo chi indossa la divisa. Mentre l'anno scorso c'era la fodera color verde e sassuolo quest'anno abbiamo deciso per una fodera verde però poi dalla mia sartina gli ho fatto fare a mano un punto con il filo verde classico pantone e sassuolo per una chicca che si godranno chi avrà la divisa. Allora con questo look è giubbotto in pelle molto aggressivo. Sì, sì, ne ho approfittato per provare un po' di cose, alcune mi piacciono davvero. Però hai anche talento da modello? Sì, c'ho una certa disinvoltura, è vero, l'hanno notata però ormai ho preso questa strada di calciatore perché non posso tornare indietro. Se l'avessi conosciuto qualche anno fa lo facevo sfilare a Milano ma poi come dice lui, ormai è un calciatore famoso per cui non possiamo più rubarlo al campo. Ormai io personalmente con la famiglia Messori ci conosciamo da tanto tempo, come ho detto prima si è vista l'evoluzione dai primi abiti ad adesso. Lui, la famiglia, cerca sempre di vestirci nel miglior modo possibile, anche non solamente nella qualità del tessuto, dei materiali, ma anche penso va al di là. Va, cerca di farci un abito giusto per come vede anche la squadra e tutte queste cose qui. Quindi credo che anche quest'anno abbia centrato l'obiettivo perché è un abbigliamento che piace, che ci fa star bene e che metteremo con molta allegria. Penso che non ci sia una parità più complicata sotto questo punto di vista. Però bisogna cercare di avere la forza e la sfrontatezza, anche di cercare di andare a affrontare una partita sulla carta impossibile. Però comunque è una partita da giocare, comunque verranno a casa nostra e comunque noi abbiamo bisogno di punti. Quindi sapete quanto rispetto si può avere per una squadra del genere, però cercheremo di fare il possibile e cercheremo di farlo a nostro modo. La cosa che fa più paura della Juventus credo che sia la mentalità che è quella di affrontare ogni partita come se fosse una finale. L'hanno dimostrata centrando tanti obiettivi in questi anni e credo che sia stata riportata da Conte, e adesso credo anche con Allegri riportata alla ribalta quella mentalità che aveva contraddistinto la Juve in tutti gli anni passati.